Donna di Piovene si infortuna durante un'escursione sul Verena. Attorno alle 14.40 il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un'escursionista scivolata al rientro dal Monte Verena nel territorio comunale di Roana. La donna ha di idille iniziali, 66 anni, di Piovene a rocchette mentre percorreva in compagnia la mulattiera della strada militare. In alcuni tratti ancora innevata ha messo male un piede ed è caduta mettendo male un braccio e riportando un probabile trago al polso e al gomito. I soccorritori si sono portati con due mezzi nelle vicinanze del luogo dell'incidente, individuato grazie alle coordinate fornite per poi proseguire a piedi negli ultimi 150 metri. Dopo averle prestato le prime cure la donna è stata imbarellata perché per il dolore non era in grado di camminare ed è stata trasportata fino all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.